Ragazzi se nei prossimi giorni doveste vedermi parlare in giapponese, francese e altre lingue non preoccupatevi è tutto normale Dopo l'aggiornamento previsto nei prossimi giorni YouTube potrebbe cambiare per sempre Sto esagerando? Beh assolutamente no ragazzi Infatti YouTube implementa l'intelligenza artificiale per il doppiaggio automatico dei video di noi creator Ecco qui il comunicato ufficiale che è arrivato in anteprima ad alcuni YouTuber Io sono tra questi quindi ve lo leggo, non so se posso perché forse è una novità ancora da annunciare Comunque questo è quello che succederà Ciao Dictest2Tech Michele Pesole, presto attiveremo il doppiaggio automatico per i nuovi caricamenti video sul tuo canale Ciò significa che YouTube genera in automatico tracce auto tradotte in diverse lingue Rendendo i tuoi contenuti accessibili a un numero maggiore di spettatori I video in spagnolo, portoghese, tedesco, francese, italiano e altre lingue Anche il giapponese saranno doppiati in inglese e viceversa All'atto pratico ragazzi potrete vedere video, comunque contenuti qui su YouTube Anche di content creator dall'altra parte del mondo Magari giapponesi Tradotti nella nostra lingua con il doppiaggio uno a uno Un po' come se fosse un video italiano vero e proprio E questo vale per tutte le lingue Un mio video italiano sarà tradotto automaticamente in giapponese in Giappone Questa è la potenza dell'intelligenza artificiale applicata in ambito lavorativo professionale come questo È una funzione che probabilmente cambierà totalmente la piattaforma Perché permetterà a tutti i content creator del mondo di YouTube di unirsi senza nessuna barriera linguistica Raggiungendo quindi un numero molto maggiore di spettatori Ovviamente questo ragazzi è un lavoro che viene delegato completamente all'EIA All'intelligenza artificiale In passato è sempre stato possibile tradurre le tracce audio dei nostri video Ma per farlo ci saremmo dovuti affidare a dei professionisti esterni Quindi dei servizi a pagamento con un costo anche abbastanza alto Io mi informai tempo fa Questo invece è totalmente gratuito Cambia tutto, è automatico In pochi secondi traduce tutti i nostri contenuti Ma in compenso toglie del lavoro a persone reali in carne ed ossa Questo è il prezzo della tecnologia, del progresso Questa è una funzionalità che partirà in anteprima per alcuni YouTuber E poi sarà progressivamente allargata a tutti quanti Ragazzi fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questa nuova funzionalità di YouTube Che cambierà totalmente la sua faccia La trovate utile oppure no? La trovate pericolosa? Parliamo insieme qui sotto nei commenti Condividete questo video a tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale E nulla Arigato Buona giornata a tutti i amici Noi ci vediamo al mio prossimo video Mi porto avanti insomma Noi ci vediamo al mio prossimo video Sempre come vogliate Sempre qui Su Addictes to Tech In che lingua? Boh, non lo so Comunque se mi vedrete parlare in giapponese In cinese o francese Non spaventatevi È tutto normale Alla prossima Ciao ragazzi Noi ci vediamo al mio prossimo video